Ciao a tutte e a tutti, mercoledì 1 luglio alle ore 21 in diretta streaming su radiosciuz.it ci sarà un nuovo webinar per pillole d'ambiente con Giovanni Marco Carrer, responsabile tecnico del laboratorio LASA del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università di Padova Marco ci parlerà di fitodepurazione e aree umide integrate con la rete ideografica minore quindi vi aspettiamo mercoledì 1 luglio alle ore 21 su radiosciuz.it sulla pagina facebook del forum Veneto per i contatti di fiume, sulla pagina youtube di Brenta Sicuro, mercoledì 1 luglio alle ore 21, ciao! Brenta Sicuro e il forum regionale per i contratti di fiume del Veneto vi invitano alla rassegna pillole d'ambiente in diretta streaming sul web di Radiosciuz, sui canali youtube e facebook e blog di Brenta Sicuro. Ogni giovedì ore 21, grandi ospiti, vi aspettiamo! Grazie a tutti!